ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento sempre sulla serie di batman arkham asylum ci eravamo lasciati nell'episodio precedente in cui eravamo entrati nei giardini e adesso devo andare a cercare dove sia appunto joker che sta costruendo il suo esercito tranquillamente senza senza problemi perché è stato e ha trovato appunto tutte le ricette per per comporre il suo esercito per ora per il giardino rispondi qui ci bloccheranno la strada credo mandare a fare un giro non mi ricordo bene adesso vediamo allora vediamo le impronte di harley infatti qua non possiamo andarci infatti ma c'era una persona ok stai bene mi sembra che stia bene volevano uccidermi eravamo nascosti nella voliera e sono arrivati con joker che calma ti guarda sparavano ovunque alla fine ci hanno caricati nelle gabbie sono ancora la no non è uscito più nessuno devi aiutarli stai qui ok allora vediamo cosa c'è da questa parte e questo mi ricordo che era un altro infatti un altro degli enigmi e qua dovrebbe essere chiusa la strada da quello che mi ricordo infatti quindi l'unica strada da 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 fare da percorrere è quella dove c'era la statua da questa parte questo vediamo se c'è un altro enigma qua infatti perfetto e qua c'è un altro nastro ok possiamo andare avanti ma aiutatemi per favore qualcuno mi tiri fuori di qui ok questa parte me la ricordo è abbastanza complicata se lo vedi spedisce all'inferno quelle lagne dei dottori l'inferno è quello sotto giusto? si cadranno tutti bene e ricorda se sente scattare un collarino significa che Batman è qui gli uomini di Joker indossano il collarino di sicurezza il primo da eliminare è l'operatore perfetto quindi sicuramente morirò ragazzi eh quindi già ve lo dico subito Batman è praticamente morto non è semplice qui quindi entriamo da questa parte vediamo se trovo un modo per andare sopra quindi il primo da eliminare è quello che abbiamo visto nella scena appunto che ha il controllo delle gabbie ok possiamo andare o sulla sinistra o sulla sinistra e basta eh sì andiamo da questa parte ok saliamo adesso non devo farmi vedere da da questo qua se questo scende no non scende allora scendo io ora mi faccio vedere però dovresti girarti tu ah 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 aspetta ma se io gli tiro il Batarang e Sonic Joker vuole fermarlo E io lo farò Che cosa diavolo è? Maledi Hai nemmeno indicato gli edicoli a farmi Batman Che vergogna Molla la gabbia No dai Io ero qua dai Mi spiace dottore La fortuna non gira la tua parte Ok Quindi abbiamo capito che non posso disattivare Ti ho suonato come un violino E ti si sono rotte le corde Sogni d'oro Batman Ok Quindi abbiamo capito che non posso neanche disattivargli I collari Cosa che era abbastanza sensata Ma ovviamente è una cosa che sicuramente tutti farebbero Ok ragazzi Allora Forse ho trovato il modo per Per andare Ok C'è un modo per lasciarmi andare Sì credo di sì Ando qui Già tu non mi vedi Perfetto Ce l'abbiamo fatta ragazzi Questo l'abbiamo tolto Questo l'abbiamo tolto Ma gli staggi sono ancora in pericolo Sarebbe bello adesso che la facessi cadere io Dove stanno andando? Ok Ok Allora questo credo che li possiamo andare a togliere senza problemi questi qua Perché intanto Sono messi Sono solo tre Sono messi Come se Come se volessero essere presi Ok questo lo facciamo salire Non avete notato Non è scendere da Tramite Perfetto Ok Abbiamo salvato anche altri due dottori Perfetto Perfetto Mi spiace Pensavo di lavorare per la dottoressa Young Ma con quale voce me lo stai dicendo? Non mi immaginavo che ci fosse di mezzo Joker Fin quando non ha fatto irruzione in laboratorio Dov'è il laboratorio? Là dietro Per passare vengo sempre controllato C'è una porta nascosta ma Beh è nascosta Grazie La troverò Resta qui Che aiuto Con quale voce me l'hai detto tutto C'è però Ok 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 E questo è fatto anche La porta dovrebbe essere Da questa parte Ok Andiamo ad entrarci Buongiorno Guarda chi ha scoperto Il nostro laboratorio segreto Visto che siete arrivati Qui vi faccio vedere Quello che ho preparato Ok Finalmente Un Combattimento contro Il suo esercito Finalmente È sempre buono Matalo E' buono Come vedete Si squandrano anche tra di loro Possiamo utilizzare questo Come un altro vantaggio Guardate Si stanno colpendo tra di loro Perché Adesso Aspettate Ok Sto bruciando tutto Va bene Mi tirerà Quello addosso Se non Ah Scappa Ok Allora Io vado da lui Io vado da lui Io vado da lui Ok Perché così possiamo andarci sopra Infatti E colpire l'altro E che farà molto più male Vado da lui Dall'altro Ok E colpisco l'altro Adesso Adesso Mi allontano Però Basta Abbiamo fatto anche abbastanza male Ah Scappa ok adesso possiamo andare di nuovo a colpire l'altro mi sono sempre mi sembra in tre colpi ciascuno ok andiamo dall'altro probabilmente quello che vedete in alto a sinistra e in alto a destra è la vita uno è morto completamente aglia si ma come lo metto che un po' ok non glielo metto non glielo posso mettere vabbè ok dai fate qualcosa dai ok adesso basta colpirlo basta colpirlo e lo mette da solo per un po' dai guardi perciò intanto ormai sei morto non c'è bisogno di fare perfetto e questi ce li siamo tolti oracle ho distrutto l'impianto di produzione di titan ma joker è scappato con materiale sufficiente per causare problemi a tutti e tu che pensavi che non potessi andare peggio hanno usato un ibrido di venom vegetale per creare la variante del titan la soluzione sta nella pianta e c'è solo una persona ad arkham che può darmi una mano cosa ti fa pensare che ivy sia disposta ad aiutarti se le sue piante sono in pericolo mi starà ad ascoltare ho un campione della sua firma al ferormone deve essere nei giardini la troverò ok ragazzi io direi che per questo appuntamento può essere tutto grazie per la visione ci vediamo al prossimo appuntamento sempre sul nostro canale sempre sulla serie di batman arkham asylum ciao 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 ciao